Buongiorno a tutti, ben ritrovati a queste conferenze stampa di Torino 39, benvenuti nello specifico alla conferenza stampa di Gianni Schicchi, film diretto da Damiano Micheletto e presentato fuori concorso in tracce di teatro, che lo ricordiamo è la sezione dedicata alle contaminazioni tra cinema e teatro. Allora diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti al tavolo, che sono in ordine partendo da questa parte, Damiano Micheletto ovviamente, facciamo un bel applauso, Paolo Rossi Pisu, produttore di Genoma Films e quindi produttore del film, grazie per essere qui, Stefano Montanari, direttore d'orchestra decisamente rock, ma anche uno dei nomi più prestigiosi del panorama della musica classica. E non solo, vogliamo anche salutare il resto della delegazione che accompagna il film, in particolare Stefano Coletta, direttore di Rai 1, Paola Malanga, di Rai Cinema, Marta Mignucchi, Cinzia Salvioli, Daniele Orazzi, produttore, Michele Riondino, produttore, Elisabetta Bruscolini, produttrice e Jonathan Santagata, direttore d'orchestra e assistente alla direzione musicale. E Mauro Gabrielli del Teatro Comunale di Bologna. Un applauso e benvenuto anche a lui. Allora, possiamo cominciare? Io direi intanto, vorrei ricordare come sappiamo che Damiano Micheletto, come tutti sappiamo, è uno dei registi più grandi di lirica, quando parliamo di lirica e anche della lirica è uno dei più raffinati conoscitori. Io penso che questo film rappresenti proprio un'evoluzione rispetto a come è sempre stata raccontata la lirica nel cinema italiano. Penso da Visconti a Zeffirelli, a Carmine Gallone, proprio registi i cui film in qualche modo davano importanza ad un aspetto in particolare che era quello della spettacolarità, della magniloquenza, pensiamo anche solo ai costumi. Mentre invece qui si va alla sostanza, alla concretezza, anche rispetto alla concezione della costruzione scenica rispetto alla musica. ma soprattutto succede che la cosa più importante, secondo me, l'opera viene portata nella vita. Quindi questo è un segno di grande modernità. Quindi la mia prima domanda, prima di lasciare la parola ai miei colleghi giornalisti presenti in sale, ovviamente ricordiamo che siamo anche in collegamento su Zoom, per cui sono invitati anche i giornalisti presenti su Zoom a farsi avanti, e quella è la seguente. Come si confronta un regista di lirica contemporanea con quella che è la tradizione della lirica in Italia che ha avuto un grande peso anche sul cinema italiano, e visto che qui parliamo di contaminazioni tra cinema e teatro. Sì, buongiorno a tutti. L'idea di fare un film partendo da un'opera non è una novità, non è una cosa di per sé nuova. Appunto hai citato già tanti esempi nel passato, a partire anche da Zeffirelli, che avevano fatto dei film partendo da un libretto. Nel nostro caso direi che ci sono due cose sostanzialmente nuove, che sono anche il motivo per cui mi hanno spinto a proporre a Paolo l'idea di fare questo progetto, questo film. La prima è che è una commedia. Io ho scelto volutamente un'opera comica proprio per rilanciare l'idea che l'opera lirica è qualche cosa di vitale, di dinamico, di divertente, di coinvolgente. Tutti aggettivi che magari uno quando pensa all'opera lirica magari non associa immediatamente, no? Invece l'opera è qualche cosa di molto brioso e molto vivace. La prima scelta è stata proprio di dire facciamo un film comico, facciamo un film divertente. E poi l'altra questione è stata quella che fin da subito, io ho detto, deve essere un film tutto quanto in presa diretta. Deve essere un film in cui i cantanti sono davanti alla macchina da presa con la possibilità di esprimersi come un attore si esprime davanti alla macchina da presa. Quindi senza playback, senza filtri, senza costruzioni artificiali. E questo ha messo alla prova il cast perché certamente i cantanti non sono abituati ad essere pronti alle 8 di mattina ed essere performanti fino alle 6 di sera sul set. Ha messo alla prova anche tecnicamente chi si è occupato di questo aspetto perché all'inizio non avevo nessuno che mi dicesse se fai così funzionerà. Cioè nessuno che mi dicesse questa è la tecnica giusta per fare in modo che 12 persone cantino contemporaneamente dal vivo con una base orchestrale che non deve rientrare in nessun microfono, quindi con un auricolare e devono essere perfetti. Perché poi c'è anche il giudizio di chi guarderà il film dal punto di vista più musicale e giustamente ha bisogno di trovare un prodotto di assoluta qualità. Quindi tutte queste incognite però hanno dato un po' quell'energia che c'era sul set, quell'energia che si respirava proprio anche nella troupe e che secondo me passa poi anche nel film. Tra l'altro un elemento anche di modernità, di grande contemporaneità che va nella direzione che tu dicevi è proprio anche come si muovono questi attori. Noi rifacendoci proprio alla tradizione dell'opera lirica nel cinema siamo abituati e ci ricordiamo appunto anche questi interpreti, questi attori anche abbastanza mummificati nei loro costumi, abbastanza in certi casi. Penso che anche Stefano poi lo possa confermare oggi, c'è proprio una generazione di cantanti che hanno molta cura proprio anche della loro immagine, del loro aspetto e B sono fisicamente veramente pronti a tutto, nel senso non c'è più lo stereotipo del cantante che diciamo si pianta e canta un'aria, c'è proprio invece una generazione di cantanti, attori che fanno, che hanno anche una grande libertà mentale poi data dal fatto che la musica ti dà anche una sicurezza di quello che devi fare e io quando lavoro in teatro quando lavoro in teatro devo dire lavoro sempre con persone che sono veramente disponibili fisicamente a mettersi in gioco al 100% e questo diventa molto emozionante e nel film un po' si vede. Si vede molto. Stefano, rifacendoci a quello che diceva appunto Damiano Micheletto sull'andare verso diciamo anche la popolarità, se vogliamo sull'idea di qualcosa che sia appunto più popolare ecco sconvolgere anche l'immagine del direttore d'orchestra fa parte un po' di questa operazione. Intanto buongiorno a tutti mi riallaccio a quello che diceva Damiano sulle incognite del progetto e ha parlato giustamente della flessibilità dei cantanti, della disponibilità diciamo che abbiamo resettato un po' i cervelli dei cantanti per fargli capire che succedeva qualcosa di straordinario e qualcosa di straordinario è nato anche per me e per Jonathan con cui ho condiviso la direzione perché Santa Gata tra l'altro non Santa Agata Santa Gata no ma ci sbagliamo tutti quanti non sei l'unica e devo dire che è stato da una parte allora il ruolo del direttore in un'operazione come questa l'abbiamo scoperto giorno dopo giorno perché abbiamo fatto di tutto l'unica cosa che non abbiamo fatto forse è dirigere sopra un albero però il resto penso Jonathan se le abbiamo sviscerate tutte quante le possibilità stesi, sdraiati in un angolo in mezzo alle ragnatele nascosti dietro a una barriera insomma è stato abbastanza complicato divertente ma complicato e quindi bisognava in una situazione come questa era inevitabile non pensare a quello che è il ruolo del direttore in un'opera è un ruolo in questo film è una cosa completamente diversa non saprei neanche come che nome dare a quello che abbiamo fatto tanto è stato così tanto diverso a parte svegliarsi presto lavorare dieci ore al giorno aspettare la pioggia e dirigere a bordo piscina io da una parte lui dall'altra insomma è stato veramente incredibile e quindi per forza il direttore in questo caso è una figura completamente nuova forse abbiamo forse abbiamo inaugurato una figura musicale diversa ci sono domande Cristiana Paterno di Cine Città News ah si fa lei ah buongiorno allora volevo approfondire un po' un discorso che ha accennato Micheletto su il fisico le physique du rôle dei cantanti nel senso che in questo film come anche molto nel rigoletto mi ha colpito la precisione proprio fisica dei cantanti rispetto ai personaggi una cosa che non sempre nell'opera lirica si ritrova c'è un casting molto accurato proprio da questo punto di vista cioè ognuno di loro rappresenta perfettamente il personaggio dal punto di vista fisico quindi se vuole dire qualcosa su questo aspetto assolutamente sì c'è un casting perché è un film e quindi è fondamentale che come dire ci siano degli interpreti che abbiano una totale qualità dal punto di vista musicale e ce li avevamo tutti ma al tempo stesso fossero perfetti per il ruolo che dovessero fare quindi è chiaro che io ho scelto questi cantanti con quasi tutti avevo già lavorato in realtà non con tutti avevo già lavorato li conoscevo e quindi sicuramente come dire la scelta è stata fatta sulla fisicità sullo sguardo sugli occhi sulla possibilità di reggere un primo piano sulla possibilità di non atteggiarsi a il cantante non atteggiarsi a coprirsi proteggersi con la musica ma fare in modo che la musica fosse un modo di comunicare delle emozioni un modo di comunicare un'intensità emotiva e la cosa che anche era particolare di quest'opera rispetto ad altre è il fatto che non ha un protagonista principale uno dei motivi per cui anche mi piace vive proprio della forza di un ensemble di un gruppo e quindi era fondamentale non solo che loro fossero bravi ma che fossero bravi insieme cioè che fossero bravi ad ascoltarsi ad avere un rispetto proprio anche nel lavoro perché la storia è di questa famiglia è dei donati e 70% del film ci sono loro ci sono i donati quindi è anche la forza di un ensemble di attori cantanti che era in grado di lavorare insieme e penso si siano anche comunque molto molto divertiti penso se posso aggiungere rispetto alla alla caratterizzazione dei personaggi si è andati anche verso la caratterizzazione vocale dei personaggi cioè ogni personaggio non abbiamo cercato un gruppo di cantanti che creassero un'omogeneità vocale ma per ognuno una voce una qualità di voce assolutamente riconoscibile era l'unico modo per fare per arrivare appunto al punto in cui diceva Damiano cioè arrivare a costruire un progetto in cui tutto fosse ben visibile e riconoscibile in cui tutti avessero un ruolo specifico dai ruoli più impegnativi ai ruoli più piccoli che non sono piccoli ma anche perché come diceva bene Damiano è un tutto è un unicum e quindi anche in questo caso la scelta è stata quella di avere dei cantanti che caratterizzassero anche vocalmente il personaggio che andavano a interpretare costumista come dire nella definizione poi del progetto c'è stato il lavoro con Nicoletta Ercole e Alessandra Carta che hanno fatto i costumi Paolo Fantin che ha fatto le scene Alessandro Chiodo che ha curato la fotografia Fabrizio Franzini che ha fatto il montaggio e Gian Domenico Maria Petillo che ha fatto il fonico di presa diretta e loro per me erano proprio uno squad un team veramente in cui mi sono sentito molto supportato devo essere sincero abbiamo un'altra domanda Carlo Griseri adesso arriva il microfono scusate ma purtroppo questo protocollo Covid i tempi sono un po' più rallentati sì buongiorno io non sono un esperto di lirica mi chiedevo ho apprezzato molto questo lavoro di modernizzazione degli ambienti della storia mi chiedevo se Gianni Schicchi in particolare che si prestava bene se è un lavoro che si potrebbe immaginare anche su altri titoli e eventualmente su quali grazie allora sicuramente si prestava bene anche se se uno prende l'opera e dice questa è una storia prendi l'opera come originale una storia ambientata nel medioevo in una stanza punto perché succede tutto in una stanza dove c'è un cadavere dove c'è un morto per cui quanto di più lontano da quello che si può immaginare sia cinematografico c'è medioevo una stanza per cui c'è stato un lavoro che è quello che ho fatto all'inizio di provare a aprire la storia portarla altrove creare delle azioni delle relazioni chiaro che questo procedimento si può fare con tutte le opere a volte quelle che sono più lontane da questo linguaggio si rivelano quelle più interessanti per cui anche ci sono tanti altri titoli del repertorio italiano da Donizetti Verdi Rossini che sicuramente si prestano per un racconto cinematografico vero e proprio sicuramente sì ecco io grazie per la domanda volevo coinvolgere nella nostra discussione anche il produttore Paolo Rossi Pisu chiedendogli appunto il suo coinvolgimento nel film nel senso soprattutto anche rispetto a quella che è stata la scelta della presa diretta insomma buongiorno sì e a tutte io mi prendo un minuto per spiegarvi il motivo il motivo che spinge un gruppo di produttori che adesso nominerò a cercare di fare un genere diverso nuovo Genoma Films nasce quattro anni fa semplicemente perché io sono un produttore ma anche un attore e sono figlio di un grande che si chiamava Raffaele Pisu il motivo per cui ho messo denaro in questa opera conoscendo Damiano a ottobre dell'anno scorso insieme a Cinza Salvioli di Albedo Marta Minucchi di Genoma Elisabetta Bruscolili che ha curato la parte diciamo artistica ci siamo guardati nelle palle degli occhi e abbiamo detto noi dobbiamo farlo questo perché da un punto di vista artistico ha un valore il ministero ci ha ascoltato Rai Cinema ci ha ascoltato Rai Uno non ci ha ascoltato significa che non era il sogno di tre o quattro persone che pensavano che si potesse fare questo film andrà in 40 sale forse anche di più come evento a partire dalla settimana prossima andrà su Rai Uno durante il periodo delle strenne e quindi credo che questo fatto che vada sia al cinema che in televisione di ancora più dignità al prodotto si possono fare dei prodotti artistici in Italia che possono andare anche verso il grande pubblico Damiano Micheletto il maestro Montanari sono delle persone che sono riuscite a tradurre in pratica ciò che ci ha balenato e che all'inizio ci sembrava quasi una sciocchezza ma il fatto che Damiano abbia accettato in brevissimo tempo che il teatro comunale di Bologna ci abbia appoggiato coproducendo ci ha fatto sentire sempre più che eravamo nella strada nella strada giusta questo film è nato quindi un anno fa un budget superiore ai 2 milioni quindi immaginate un film ci mette normalmente due anni noi produciamo anche film normali abbiamo altri progetti però faremo tanti altri film opera per rispondere alla domanda perché fare dei film opera cercando di attualizzarli non sempre ma comunque cercare di arrivare al grande pubblico quello che non va all'opera è importante per il nostro paese perché questo è il modo forse voi non siete d'accordo ma di fare musical in Italia noi abbiamo Puccini Rossini ne abbiamo di progetti oggi parliamo di questo e grazie al loro lavoro al fatto che la Toscana luogo proprio dove bisognava girare Lucignano non mi ricordo tutti i paesi se me li vuoi Lucignano un altro qual era? Pienza no Pienza me la ricordo ma quello piccolino Sant'Anna in Camprena luoghi che di solito non vedono il cinema ma sono certo che in quella zona della Toscana verranno altre produzioni a girare insomma io potrei andare avanti per delle ore ma non voglio la presa diretta l'ha spiegata lui cioè si può fare cinema che vada al grande pubblico in maniera educata l'idea tecnicamente di cosa è successo allora noi abbiamo accettato quando Damiano mi ha chiamato io ho accettato subito tanto io Damiano lo adoro lui forse sì un po' sì un pochino adesso mi vuoi più bene però bravo allora quando abbiamo cominciato a parlare di questa cosa eh? sì va bene accettato d'accordo ma esattamente non sapevamo a cosa andavamo incontro perché c'erano delle idee dopo le idee abbiamo cercato di capire come si potesse tradurre tecnicamente l'idea e ogni volta che ci sentivamo c'era qualche problema perché è molto semplice adesso dire abbiamo fatto in presa diretta la presa diretta vuol dire che noi siamo andati a Bologna abbiamo registrato tutta l'opera con l'orchestra del teatro comunale dopodiché abbiamo fatto il messaggio dell'opera abbiamo stabilito e chiuso la base ce la siamo portate nei luoghi in cui abbiamo cominciato sul set a registrare il film ehm diciamo che l'armamentario nostro era radiomicrofoni ricetrasmittenti auricolari dove sentire la base i cantanti avevano la musica nelle orecchie ma non la sentivano proprio benissimo perché non è così semplice cantandoci sopra uno solo ehm io e Jonathan con il suono loro mentre cantavano la base dell'orchestra dall'altra parte e a dirigerli mentre facevano le azioni sul set ehm vi garantisco che non è semplice quindi io il progetto eh sono tutto d'accordo con quello che dice Paolo e sono cento per cento d'accordo e penso che faremo altre cose ma ehm vorrei veramente puntare il dito sulla questione tecnica di come è stato registrato e di come è stato prodotto il film perché veramente è una cosa che non non si è mai vista abbiamo studiato molto eh beh sì no abbiamo sperimentato sul campo ogni giorno cosa si potesse fare cosa non si poteva fare cosa era meglio cosa non era meglio adesso eh probabilmente siamo molto più pronti di di giugno di quest'anno per fare un'operazione come questa adesso ne faremo un altro l'anno prossimo posso ringraziare anche Daniele Orazzi che è un produttore con la S.O.D.O. vedo Michele Riondino che è produttore con Bravo e posso ringraziare anche giusto della signora Bellucci che ci ha dato una mano grazie allora in conclusione se non ci sono domande vediamo se c'è qualche altra domanda sì Cristian però volevo chiedere qualcosa sul coinvolgimento di Giancarlo Giannini che è molto interessante però insomma come ci siete arrivati come l'avete convinto e come avete lavorato al personaggio di Buoso Donati con lui pronto 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 funziona sì adesso va Giancarlo Giannini partecipa al film perché io volevo che l'inizio del film non coincidesse con l'opera come uno di consuetudine quando va a teatro volevo che ci fosse un inizio che fosse diverso un po' inaspettato nella storia dell'opera di Gianni Schicchi c'è un personaggio che c'è sempre che si chiama Buoso Donati che però quando si fa a teatro ci sono due cose o è un figurante disteso a letto più o meno spupazzato in giro o è proprio magari un manichino o magari anche non c'è e invece siccome tutta la storia avviene a casa di Buoso Donati tutti vogliono l'eredità di questo Buoso Donati in realtà durante la storia lui prenderà vita allora ho detto potrebbe essere interessante far partire proprio da questo personaggio che non vedi mai all'opera quindi dare un'identità una fisicità una parola a lui e quindi l'idea che ci sia questo Buoso Donati che ti accompagna all'interno di casa sua dove stanno cominciando un film e comincia a seminare degli ingredienti che poi tu ritroverai durante l'opera per cui se nell'opera tutto viene lasciato ai frati in qualche modo tu poi lo riconduci a qualche cosa capisci chi sono già questi parenti quindi è come dire un prologo dove tu entri entri già a contatto con gli ingredienti dell'opera capendo quello che è successo prima per goderti meglio quello che succede dopo e quindi nei due giorni in cui Giancarlo Giannini ci ha fatto questa insomma la possibilità di lavorare con lui due giorni sul set per me che era anche la prima volta che facevo un film è stata una cosa molto emozionante e soprattutto anche perché poi l'opera ha questa particolarità che conclude con una parte parlata dove ci sarebbe Gianni Schicchi che dice che fa la morale della storia e questo permetteva di chiudere la storia invece di nuovo con Buoso Donati con Giannini quindi le battute che erano di Schicchi io le ho date a Buoso a Giannini e quindi c'è una circolarità nella storia che la chiude secondo me in maniera molto naturale infatti questo ci permette di sottolineare anche quanto cinema ci sia proprio anche in questo adattamento dell'opera a partire dalla presenza appunto il libretto di Gioacchino Forzano che insomma sappiamo che è stato un personaggio molto importante fondatore di Tirreni ha avuto un ruolo importante nel cinema italiano ma anche proprio parlando degli spedienti cinematografici l'idea di far parlare un morto alla fine Viale del Tramonto è quella roba lì per cui effettivamente diciamo sono disseminati di tutti questi questi momenti di questi espedienti appunto cinematografici io credo che siamo in chiusura starei qua a chiacchierare con voi per ore però dobbiamo chiudere allora io vi ringrazio nuovamente ringraziamo Damiano Micheletto un applauso Paolo Rossi Pisu produttore di Genoma Films Stefano Montanari direttore d'orchestra e poi ringraziamo di nuovo tutta la delegazione che ha accompagnato il film grazie ancora grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti